Ciao, sono Roberto Rinaldini. Oggi vi apro le porte del mio nuovo laboratorio di Rimini e realizzeremo insieme uno stecco semifreddo al caramello e arachidi salate. La copertura? Cioccolato Bercolade Selection Amber Cacao Trace, un cioccolato dal gusto di caramello salato e dal colore ambrato. Iniziamo! Per iniziare a preparare il semifreddo alla vaniglia dobbiamo prendere la panna con la vaniglia e metterla in microonde fino a bollore. Per fare il caramello buttare lo zucchero poco alla volta e aggiungerne ancora solo quando il precedente sarà sciolto. Andiamo a versare il caramello all'interno della ciotola e lo mettiamo in abbattitore per qualche minuto. Bene, la panna e il mascarpone sono stati montati, sono freddi a 4 gradi. Adesso vado a prendere il caramello in abbattitore che è attorno alla temperatura di 20 gradi C. Aggiungiamo la panna al mascarpone in tre volte all'interno. Mettiamo il nostro caramello nel sac à poche. Bene, dopo averli lisciati andiamo in abbattitore. Allora glassiamo i nostri stecchi. Appena li formiamo dallo stampo e andiamo a posizionare immediatamente il decoro. Andiamo a metterlo sulla parte esterna della bocca per dare un punto di luce e catturare l'attenzione dei clienti. Lo stecco amber è pronto. Una cosa importante, si può mangiare prendendolo direttamente dal congelatore a meno 20, subito. Dunque la ricetta è fatta per essere subito degustato appena preso dalla vetrina.